È un progetto che si è concluso con l'elaborazione di uno studio e di un vademecum che dà uno spaccato delle malattie professionali nel mondo sanitario, quindi delle professioni sanitari intese come assistenza sanitaria e assistenza sociale. È il risultato di un'indagine che è stata condotta su una campione di 420 lavoratori nell'ambito di 5 ospedali, ci dicono che sostanzialmente c'è una informazione, formazione e prevenzione da diffondere così diciamo come facciamo come Inel nell'ambito di tutti i settori produttivi perché la malattia professionale è una malattia lenta, subdola e quindi va presidiata con comportamenti corretti e dispositivi di protezione nel corso di una intera carriera lavorativa. Prima cominciamo a formare, informare i lavoratori e renderli consapevoli, prima riusciamo ad evitare che alla fine di una carriera o nel corso di una carriera possano sviluppare queste patologie, ma l'incidenza è notevole in termini di costo economico e di costo sociale, considerate che una tecnopatia comporta il costo sociale per il lavoratore che viene praticamente estraneato dal mondo del lavoro per le sue difficoltà fisiche ma comporta anche un costo economico per la collettività, per tutte le prestazioni economiche che l'istituto deve assicurare per la presa in carica del lavoratore. Allora adottare dei comportamenti corretti, dare al lavoratore dei dispositivi che consentono di aiutarlo nello svolgimento delle sue mansioni significa praticamente intervenire su questi due costi molto gravi e quindi migliorare un po' il tenore di vita del lavoratore ma anche andare a beneficio di tutta la collettività. Questo sicuramente il compito diciamo di implementare l'organico non è un compito dell'INAIL, sicuramente le condizioni stressanti, le condizioni in cui sono costrette a volta ad operare in certi presidi ospedalieri gli infermieri, i medici devono fare riflettere perché l'assenza magari di un adeguato turnover, il fatto che l'età media degli operatori sanitari si sia elevata e quindi parliamo di persone più esposte all'incidenza di patologie deve ovviamente indurre una riflessione anche sulla esigenza, una necessità di un continuo ricambio e quindi di energie che possano meglio supportare il lavoro all'interno dei presidi ospedalieri e quindi intervenire un po' ad allentare la pressione che c'è su chi ci opera attualmente. Lo spaccato è stato realizzato con una campionatura che ha riguardato tutto diciamo il mondo dell'assistenza sanitaria, quindi i tecnici, gli infermieri, i medici ma anche il personale che collabora per gli approvvigionamenti. Sicuramente la famiglia professionale che è stata indagata di più, la più popolosa è quella dei collaboratori infermieri. A questi risultati queste ricerche sono per noi importantissimo perché come ha evidenziato la ricerca mette in evidenza lo stato di salute nei punti, negli ospedali che siamo andati ad analizzare. Per noi questo è fondamentale, lo è sempre stato ma tanto più oggi in un momento in cui il lavoro è cambiato, dove l'organizzazione del lavoro è cambiato, come viene messo in evidenza il personale nella sanità è sempre meno e quindi le esposizioni a rischi di malattia professionali sono sempre più evidenti. Quindi è importante avere questo quadro oggi per poi in una fase successiva intervenire per poter agire e per poter, dove ovviamente sarà possibile, mettere in campo l'azione di tutela che come patronato, come Inca CGL facciamo e cioè far sì che quel lavoratore maggiormente esposto e che oggi ha sul proprio fisico dei rischi che ha subito nel proprio fisico dati dalla propria attività lavorativa, verrà seguito dal nostro medico dell'Inca CGL che valuterà la sua posizione e quindi si avvierà il percorso e la richiesta di malattia professionale verso l'inali. Perché il riconoscimento come sta venendo fuori oggi da questo convegno è che riconoscere una malattia professionale rispetto a un infortunio che è un evento traumatico ed immediato, la malattia professionale la andiamo a riconoscere nel tempo. Quindi è un qualcosa di più subdolo ma noi a partire da queste ricerche che facciamo sia a livello in questo caso di Calabria regionale ma anche a livello nazionale in un confronto continuo con le lavoratrici e collaboratori, con gli RSU, l'RSU e l'RLS è proprio quello di mettere in evidenza i danni che una lavoratrice o il lavoratore subisce a causa del proprio lavoro. Purtroppo dobbiamo dire che ogni anno assistiamo a un aumento costante delle denunce di malattie professionali e di conseguenza anche i riconoscimenti stanno aumentando perché purtroppo ci si ammala molto, sempre di più di lavoro e voglio dire che a fronte di un mondo del lavoro che sta fortemente cambiato con ritmi di lavoro sempre più pressanti con una pressione dettata anche dal massimo guadagno, dalla produttività, noi andremo incontro purtroppo se non ci sarà una prevenzione, un'attenzione forte alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla sanità ma in tutti i settori pubblici e privati saranno sempre più, saranno sempre più esposti purtroppo ad avere, a subire malattie professionali cioè danni dal lavoro che svolgono. Ma io penso che questa contezza da quello che vediamo ce n'è poca perché altrimenti l'azione di prevenzione che costantemente, quotidianamente rivendichiamo come CGL tutta, ancora viene vista troppo come solo un costo mentre invece significa investire ed è per questo dal canto nostro come patronato della CGL lavoriamo per l'emersione della cultura della sicurezza e quindi della prevenzione.